Ciao ragazzi, siamo Garbaniato Milanese, il mio paese e siamo sul canale Viloresi. Oggi peschiamo da qui e vi faccio vedere come mi sono attrezzato e dove sono in poche parole. Bene, questo è il canale, allora, è un canale con cui l'acqua arriva dal Ticino, quindi tutti i pesci che nuotano nel Ticino potenzialmente sono pesci che possiamo trovare qua. Ve lo dico, troviamo soprattutto siluriformi, cavedani, qualche carpa, niente di, qualche luccio, che nascono piccoli, passano attraverso le dighe di Somma Lombardo dove nasce il canale e poi appunto arrivano fino a Garbaniato Milanese. La montatura, canna da pesca spinning, anche se ho messo il galleggiante, qua adesso sono un po' avvinghiato ma vi faccio vedere, ho messo, classica montatura galleggiante con, vi faccio vedere, un grillo finto. Questo l'ho comprato in un negozio di pesca ma li trovate con abbastanza facilità, queste sono ideale per i siluriformi. Come andiamo a pescare? Semplicemente, archetto aperto, ho lanciato il galleggiante in acqua e lascio che la corrente faccia il suo corso. Adesso staccherò il video e lo riprenderò soltanto alla fine della giornata e vediamo, insomma, vedete che la corrente fa il suo corso e noi dobbiamo solo aspettare che il pesce abbocchi. Vi assicuro che questa è un'ottima zona di pesca perché qua spesso ho fatto delle catture. Ci sentiamo alla fine della giornata, praticamente, della giornata di pesca, la patuta di pesca, insomma. Allora, il punto migliore dove pescare, secondo me, dove di solito prendo, è, vedete dove c'è il ponte, che ci sono quelle parti di muro, quegli archi lì. Ecco, quello credo che sia il punto migliore. La corrente mi porta al galleggiante lì, me lo sta portando, e lì si annidano spesso i siluriformi. Siluriformi di piccola taglia, eh, siluri molto piccoli, ma comunque siluri, pesce gatti, cavedani, quindi cipriniformi. Mi è capitato di intravedere anche qualche carpa, non sono mai riuscito a insediarla, ma magari la prossima volta ci facciamo una montatura apposta. Altre due cose ci tenevo a dirle. Intanto che questo è un fiume, come potete vedere, è un canale con una corrente abbastanza sostenuta e purtroppo si formano spesso dei mulinelli. È per questo che vengo a pescare qua, dove sicuramente queste ringhiere ci danno un po' di problemi, ma perlomeno evitano spiacevoli inconvenienti, insomma, evitano, perché ci sono delle zone del Villoresi che non hanno ringhiere, sarebbe più facile andare a pescare lì, soprattutto la roba, diciamo più piccola, tipo alborelle e cose del genere, ma io evito a prescindere perché preferisco rimanere sulla terra piuttosto che finire giù nell'acqua. Come potete vedere comunque qua la corrente è molto forte, guardate quanti oltre le anatre. È bellissimo sto posto anche perché è pieno di animali. Mi è capitato di vedere delle anatre come queste, mi è capitato di vedere anche altre specie animali tipo gallinelle d'acqua, colombacci e cose del genere. E oltre a rane, via discorrendo, anfibi vari. E dicevamo appunto che appunto, visto che la corrente è così sostenuta ed è così piena di mulinelli, preferisco venire qua piuttosto che andare in una parte più aperta. La parte più difficile per venire a pescare qua è una e una soltanto. Vedete, il galleggiante in questo momento è bello al centro della corrente ed è al centro del canale. La corrente e i pesci tendono a portarti il galleggiante molto sull'esterno e alla fine rischi sempre di incagliarlo al bordo. Quindi la difficoltà maggiore sta proprio lì, giocare con la corrente in modo che il galleggiante si allontani riesca a entrare in quelle due condotte, che vi ho detto prima, quei due archi che sorreggono il ponte di via Milano qui a Garbanate Milanese senza dover per forza incagliarsi sul laterale. Quella è la parte più difficile insomma. Bene abbiamo terminato, dunque avete visto le foto delle due catture, oggi non è andata molto bene, avevo preso soltanto quel gattino lì e quel cavedano, che la foto sembra enorme in realtà ve lo assicuro era quanto la mia mano, quindi molto piccolo. Io e la mia fedelissima canna, questa è una canna fatta da mio zio Mario, quindi pensate, questa canna qui ha qualcosa come almeno 60 anni e è costruita appunto a mano, quindi è un lavoro micidiale, ci sono affezionato e la uso proprio per venire a pescare in questo fiume, in questo canale che ha attaccato a casa mia. Dunque con quelle foto di catture io vi saluto, con quelle catture che ho fatto e ragazzi a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento col prossimo video inerente alla pesca, che sarà un video dove vi spiegherò come fare l'attrezzatura, un terminale per pesca alle carpe o per ciprinidi, partendo da una bottiglia di plastica. Spero che sia interessante, intanto è venuto anche il mio gattino, come potete vedere ho il mio gattino, come potete sentire più che altro vedete il ciaomeo, eccolo lì, e a me non resta che salutarvi dall'appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!